strano perché di solito cibus lo fanno a maggio invece oggi è una giornata di fine novembre a quanto pare dopo due anni di inattività riparte cibus nell'edizione 2022 già dal parcheggio visto che c'è tantissima gente la sensazione è quella che sia gli espositori che il pubblico insomma abbia voglia di una fiera come quella pre covid insomma un momento di festa un momento di di serenità culinaria chiamiamola così bella questa secondo me andare da spiegaroli e mangiare un una buona idea o no è perfetto merendina esatto che poi per me è un pranzo perché io sono a cibus da stamattina 9 e mezza ma non ho ancora mangiato niente per modo di dire per modo di dire allora ho pagato 500 euro una fetta di mortadella è un fiore di mortadella non è una fetta volevo dire che anche in spagna li sanno fare salumi e non solo in italia questo è il pata negra giusto buongiorno buongiorno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.